Quanti copertoni? Sembra come quando sono andata a Malta Sì Però io non ne vedo una vita a croce No, questa qua non è Non è, sì Guarda questa parchetta, oddio No, questa qua va prima Non è sicura questa? Perché no? Non è sicura Cinque piani ho contato Che roba Cinque piani Cinque piani Poi ho contato io magari Questa l'abbiamo vista anche ieri No, questa qua va bene Grazie a tutti. 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 Il blogger si chiama Marcella, sentimi andiamo Marcella, sono da giù in fondo, ok, città di Camogli, Wolfo Paradiso, bella bella, ok ci stava lei, si dai, ci stava, e ci stava, ok, città di Camogli, e ci stava, ok, città di Camogli,